Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Andrea Zamburlin, regista del film J-Loop. Quello che affronteremo oggi non sarà una video recensione di un film o di una serie tv o di un manga o di un anime uscito di recente, bensì una retrospettiva e parleremo di questo film che ha determinato sicuramente la mia passione per il cinema, che è Armageddon. Ovviamente se non lo hai ancora fatto e i misproloqui ti piacciono, iscriviti al mio canale. Questo Colossal è il terzo film diretto da Michael Bay dopo Bad Boys e The Rock, e setta un nuovo standard. Allora, dobbiamo parlare innanzitutto dell'aggettivo che poi è stato cognato successivamente, ovvero per identificare quel genere di film Allarmageddon. E cosa vuol dire Allarmageddon? Vuol dire che ha una grossa componente da disaster movie, quindi catastrofico, però al tempo stesso c'è una buona dose di epica e dell'umorismo. Voi direte, ok ma questo cazzo di umorismo lo mettono dentro dappertutto da un sacco di anni a questa parte, forzatissimo. E invece in Armageddon funziona tutto alla grande. Infatti il grande successo della pellicola fu portato non solo per la maestosità della messa in scena, ma proprio grazie a questo mix riuscitissimo, e mi verrebbe anche da dire che poi raramente ritrovato poi più avanti, di umorismo, drammaticità, epicità, azione e lacrime. La sceneggiatura tra l'altro è scritta a quattro mani da Jonathan, aspetta che lo devo leggere che ce l'ho qua dietro nel posto, Jonathan Henslake e, qua c'è il colpo di scena perché tanti di voi non lo sapranno, J.J. Abrams. Quindi il loro contributo è stato cruciale per il successo del film. Anche se, adesso poi ne parleremo nel punto seguente, la trama e la storia poi è stata soggetta a un sacco di parodia, un sacco di critiche da tutto il mondo per l'assurdità e la stupidità del plot stesso. Allora, c'è un asteroide gigantesco che punta sulla Terra, causerà l'estinzione di tutta la razza umana, farà saltare in aria il pianeta Terra, ci sono solo delle settimane di tempo per riuscire a fare qualcosa e decidono come ultima chance, come unica chance di arruolare un gruppo di trivellatori, i migliori trivellatori del mondo. Li mettono su degli shuttle, li mandano sopra l'asteroide, devono trivellare un tot di metri, sganciare una bomba nucleare lì, poi andare via dall'asteroide e a distanza di sicurezza detonare la bomba, fare dividere così, perché praticamente è come se facessero esplodere la bomba dal mezzo, dividere l'asteroide in due parti, in due sezioni, che poi passeranno a distanza di sicurezza dalla Terra. Quindi questa è l'assurda trama di Armageddon. Nessuno ci avrebbe scommesso un solo euro sulla sua riuscita e invece, mettendo insieme tutta una serie di fattori e con la grande regia di Bay che riesce a giostrare e a tirare fuori il meglio da ogni singolo reparto, signori, è venuto fuori il gioiello. I punti di forza di Armageddon sono veramente tanti e tra tutti c'è il cast corale. Non solo in termini di star power, quindi parliamo degli attori coinvolti, perché c'è Bruce Willis, Liv Taylor, Ben Affleck, Steve Buscemi e tanti altri famosissimi, un giovane Owen Wilson tra l'altro. Sono proprio i personaggi che sono scritti con sapienza, con genuinità e ognuno di loro ha un carattere ben delineato e ci fa empatizzare con ogni singolo componente della crew. Questo ovviamente giova a favore poi dell'emozione, dell'emotività che viene suscitata nelle scene più drammatiche, nelle scene dove qualcuno ci rimette la pelle. Ed è questa la grande costruzione narrativa che manca nei film moderni. Cioè nessuno riesce a tifare o a temere per la sorte dei personaggi del film, perché sono scritti di merda, sono scritti con il culo. Invece in Armageddon ci sono una dozzina di personaggi, di questa dozzina 6-7 vengono approfonditi in maniera un po' più marcata e caspita se temi per ognuno di loro, caspita se ci rimani male quando uno di quelli lì muore. Come possiamo non nominare le bellissime musiche di Trevor Rubin che ha azzeccato almeno un paio di temi come questo e questo rendendo così riconoscibile Armageddon nel giro di quattro note. Michael Bay ci regala così almeno quattro scene memorabili, quindi come non nominare la pioggia di meteoriti all'inizio del film, il disastro della stazione orbitante russa, l'asteroide su Parigi, il gran finale. Uno dei finali più belli della storia del cinema. Uno di quei finali che ti fa venire la pelle d'oca. Uno di quei finali che ti fa scorrere le lacrime. Perché se hai un cuore e guardi Armageddon, nel finale qualcosa ti si smuove e deve uscire fuori con un torrente di lacrime. un magone grosso così. Forse molti di voi conosceranno I don't wanna miss a thing degli Aerosmith che è la canzone portante di Armageddon ma non hanno mai visto il film. E se sentite la canzone dopo aver visto il film, dopo che questo fiume di emozioni vi ha pervaso l'anima, percepirete e vivrete la canzone stessa con una nuova sensibilità. Mi sento anche di dire due parole sul personaggio di Harry perché il personaggio di Harry quando vidi Armageddon che è del 98, io avevo all'epoca 11 anni, mi stette profondamente sulle palle perché lo trovavo arrogante o un po' cattivo anche in determinate occasioni, cattivo con la figlia, cattivo con AJ. Non comprendevo pienamente le motivazioni del perché si comportasse in quel modo. Anche se già all'epoca apprezzai tantissimo e forse mi scatenò quel qualcosa dentro che io ancora all'epoca non seppi decifrare, decodificare la grande emozione finale per la conclusione del film. Invece più si invecchia, quindi più sarai vecchio e più invecchierai e più riguarderai Armageddon riuscirai a comprendere appieno le motivazioni per cui Harry si comporta in un certo modo e anzi le comprenderai perché capisci che è un padre di famiglia che ammette a un certo punto di non essere stato un buon genitore. Ad ogni modo prova a essere anche un mentore per AJ nonostante lo tratti male e nonostante non voglia che, a giuste motivazioni, a giuste ragioni, non voglia che frequenti la figlia. perché è sua figlia e la ama con tutto il cuore ed è infatti molto bello vedere man mano che nel film gli eventi drammatici vanno sempre per il peggio che sia Grace che Harry si ritrovano e si ricollegano, si riconnettono più forti che mai nel grande legame che lega un padre a un figlio. Ora per dire quello che vorrei dire ho bisogno di leggerlo. Me lo sono appuntato ieri perché ci ho pensato e ho trovato le parole corrette ma so che non riuscirei mai a dirle giuste tutte di fila guardando la telecamera. Quindi mi sto riferendo al motivo principale per cui andrebbe visto Armageddon che è il finale perché il finale è una pietra miliare della storia del cinema e questo è il motivo perché lo è. Le musiche incalzanti di Trevor Robin portano a un'escalation sensoriale impetuosa tra musica, suoni, montaggio che porta inevitabilmente a brividi e lacrime come pochi gran finali cinematografici sono stati in grado di fare. Bene, io ho concluso la mia retrospettiva su Armageddon e spero che qualcuno di voi lo abbia scoperto e altri riscoperto. Potete seguirmi sui social io mi chiamo Andrea Zamburlin e sono il regista del film J-Loop di cui trovate trailer e qualche clip all'interno del mio canale e concludo ringraziando Harry. Grazie Harry.